ciao bambini che bello oggi sono atterrata leolandia per divertirmi insieme ai miei amici leo e mia già abbiamo preparato qualcosa di mai visto prima davvero speciale esatto canti e balli insieme a tutti noi del resto siamo all'eolandia qui ci si diverte sempre un vampiro col mantello nero ora ti spaventerà un fantasma con lenzuolo bianco ora ti spaventerà solo i più curiosi solo i coraggiosi potranno restare qua che paura fa ti terrorizzerà halloween è già una strega vola sulla scopa ora ti spaventerà uno zombie esce dalla tomba ora ti spaventerà solo i più curiosi solo i coraggiosi potranno restare qua che paura fa ti terrorizzerà halloween è già uno scheletro scocchia le sue ossa ora ti spaventerà l'uomo lupo ulula la luna ora ti spaventerà solo i più curiosi solo i coraggiosi potranno restare qua che paura fa ti terrorizzerà halloween è già leo mia è stato divertentissimo grazie per avermi accolta e grazie leolandia è proprio un mondo fantastico che esiste davvero bambini venite anche voi a trovarmi a leolandia scoprite quando su leolandia.it ciao ciao